Una giornata storica per il territorio viceno e anche per la nostra città. Finalmente abbiamo portato il nuovo corso di fisioterapia anche ad Ascoli grazie al magnifico rettore professor Gianluca Gregori e riusciamo già a partire da quest'anno con 20 studenti e studentesse che seguiranno il corso di fisioterapia quindi porteremo anche ad Ascoli molti ragazzi e molti studenti che verranno qui a studiare e potranno ammirare la nostra città. Quindi è molto importante questo reparto corso molto bene. Abbiamo con un lavoro di squadra fatto insieme alla Regione Marchio c'è anche l'assessore Latina, l'assessore Castelli, anche il direttore di Era Vasta, cioè tra i Milani abbiamo rinnovato questo reparto di fisioterapia con aule per studenti che faranno lezioni sia frontali che laboratori e esercizi pratici proprio negli ammolatori. E voglio ringraziare e congratularmi perché ho vissuto anche da paziente questo reparto il dottor Fioroni, il coordinatore di Ascoli San Medetto del reparto fisioterapia, il dottor Massimo Massetti, ma tutti gli operatori e tutti i fisioterapisti di questo reparto che lavorano veramente con il cuore e tutti i pazienti sono veramente contenti del loro lavoro. L'occupazione in fisioterapia degli studenti è attorno all'87%, quindi altissima, quindi un corso importante perché produce non solo formazione ma anche lavoro.